Ciao a tutti, ecco qua con un nuovo video. Anche questo video è un video di nail art, è un nail art pensato per unghie corte e in verità questa qui è la nail art che avrei dovuto fare per il giorno della Befana soltanto che non ho fatto in tempo e appunto eccola qua adesso, un po' a ritardo. È davvero molto semplice da realizzare e cominciamo subito. Io ho già dato una base protettiva su seguente le unghie poi ho passato uno smalto verde normale su anulare e pollice e sulle altre unghie uno smalto verde Tiffany. Poi con uno smalto verde acceso ho fatto metà unghia dell'indice e adesso con varie tonalità di verde e anche verdi glitterati o comunque strass verdi comincio a fare dei quadratini sparsi per le unghie appunto per creare le toppe. Potete fare più piccole, più grande, più vicine, una sopra l'altra. Io appunto ho deciso di disporle in questa maniera. Adesso prendo lo smalto verde scuro e con un pennellino da nail art faccio tanti piccoli lignette intorno ai miei quadratini per creare appunto le cuciture delle toppe. Faccio la stessa cosa sul mignolo anche con diversi colori cioè verde acceso e verde normale. Poi su alcune toppe applico dei glitter verdi con del tono verde e questa appunto è la nail art finita. spero tanto che vi sia piaciuta e che magari la ricreerete. Un grosso bacio al prossimo video. Ciao! Ciao c'è pro伺ero! Ciao! Grazie a tutti.